Ciao a tutti ragazzi da Corrazzonto 9, bentornati sul mio canale per questo unissimo video, oggi siamo qui con un video di Clash of Clans Ragazzi non c'è stato l'appuntamento di Clash of Clans ieri, come al solito sapete che Clash of Clans esce tutti i giorni ragazzi alle 10 su questo canale Però ieri ragazzi non ho fatto il video, non ho pubblicato perché in pratica è saltato perché eravamo nel pieno fase della guerra Quindi stavo un po' studiando, non volevo gufare diciamo nella vittoria che stava avvenendo ragazzi ed è venuta Abbiamo vinto la battaglia, adesso ce lo dice troppo tardi, la guerra è terminata e ce lo dice? Sì ragazzi eccolo qui, vittoria Corrado C71 Vittoria ragazzi Mamma mia, vi ringrazio davvero tutti ragazzi, siamo stati fenomenali, siamo stati Le prossime guerre che non ci saranno subito ragazzi, adesso aspettiamo un pochino, rifacciamoci un attimo all'esercito Respiriamo un po', però ragazzi ce ne siamo meritati perché non abbiamo parlato di squadra Io intanto per darvi sempre le solite cose, ovvero news, aggiornamenti della guerra, parlare con voi Ma anche da città mia Stavo facendo il mortaio nuovo e poi io ovviamente quando registro apro subito con voi insomma la partita, quindi non è che stavo guardando Quindi vedo che si è liberato un moratore e faccio qualcosa, cosa posso fare? Perché non c'ha molti soldi E' un secondo deposito dell'oro e no Questo dai Perché adesso ragazzi non c'è più il bonus che ci dava il doppio, grazie all'offerta di Clash of Clansy che compiva due anni Quindi ragazzi quello purtroppo ci manca, ci mancherà molto Allora Saluto Anzi dico che sono video Scusate Dico solo Video Ho scritto video Vediamo cosa mi rispondono Tanto saluto quelli che vedo lei Sovero Love 10 Pietro Pietro Regulus Cree Momo Io Super Paolino Fire Dragon Alex E ancora Cree Antonio Eccetera eccetera Vediamo se qualcuno mi ha spossesso No Quanto però non c'è nessuna linea Però vabbè Vediamo dopo se compagno le cose Allora ragazzi Sto migliorando Sono vedete la Lega Reggio 3 Quindi vado abbastanza bene Diciamo così Non ho mai gemmato Come vedete a vedere E Non credo di farlo ragazzi Non credo tovi Ma se proprio lo farò sarà per il moratore Non per andare avanti con la velocità Altra cosa Come esercito Come sto a me Sto con le caserne Ad un buon livello Però Non c'è una che spicca Nel senso Che sono la 6 6 6 Ecco Tra l'altro 666 Evviva Quindi Non è che ho una 7 Quindi non posso fare tanti Guardi Come si chiamano I Come dicono I stregoni Posso arrivare Alle inutili Non gonfiere Nel senso Sono utili Quando la difesa Non ha Arcieri Ma chi è che non ha arcieri Poi se c'è anche la difesa aerea Peggio ancora Però Che avete capito Non è il discorso Quindi questo è un video Più che altro Per ragazzi Ringraziarvi E farci un grande bocca al lupo Per la prossima guerra Ma subito ringraziarvi Per la guerra Che abbiamo appena vinta Ragazzi L'abbiamo vinta Ve lo dite conto Come è vinta Abbiamo avuto anche Il nostro bonus Non so Non so cosa si fa Vediamo adesso L'ultima parte Prendi Ok E' vero Prendi Ah si Il mio Spero sia Solo La mia parte Ok Yeah Prendi il bottino Quindi adesso Il bottino Ok Registro di guerra Yeah Ci dà la nostra vittoria Ragazzi Quindi Ce l'ha salvata Grandissime ragazzi Quindi siamo fortissimi Continuiamo così Ragazzi Prima che me lo chiedate Nei commenti Vi dico che la prossima guerra Devo ancora decidere Quando la farò Ma vi dirò Quando è Con un email circolare Che metterò lì Non una chat Ma le email circolare Quelle che rimangono Quindi per il momento Ragazzi è tutto Io come detto Sto rifacendo Una Di oro E il mortaio Che devo potenziare Un po' la difesa E poi vedrò Di fare meglio Il mur Adesso ho messo Un po' così La cacchio Un saluto a tutti Qui non ha risposto Nessuno Ok Vabbè Non ci sapete Che non c'è nessuno Quindi ragazzi Per il momento Tutto ancora Grazie mille Davvero A tutti Per questa guerra vinta È stata una cosa Importantissima Per me Anche perché Ovviamente È la prima volta Che gioco Clash of Clans Quindi E vi prometto Ragazzi Che Come già fatto Appunto I video di Clash of Clans Vendranno fuori Ogni giorno Finché non ho voglia Penso ancora per molto Ogni giorno Ragazzi Alle 10 Quindi aspettate L'appuntamento Ogni giorno alle 10 Se qualche volta Salta Ci sarà qualche problemino Comunque Non ho voglia Non puro voglio Fare qualcos'altro Ma sappiate che Il più delle volte È alle 10 Ogni giorno Quindi un saluto Della vostra Carazzo Mi raccomando Mi piace Iscrivetevi E commentate Ciao 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 ciao